Un figlio autistico che ha 18 anni, l'ha fatto vaccinare? Certo l'ho fatto vaccinare, come tutti sono fatti vaccinare, qua è il problema. Non c'era ancora ai miei tempi nemmeno questa follia che l'autismo va a venire ai vaccini. È terribile, lo sai perché è terribile? Perché le persone sono sempre più portate a pensare che gli sciamani abbiano più ragione degli scienziati. Siamo un paese in cui la scienza ha poco valore. E una famiglia che pensa che il figlio è autistico perché ha fatto il vaccino, subito distorce quella che è l'attività quotidiana che deve fare per abilitare il figlio, per farlo diventare autonomo, per portarlo con sé, spendendo soldi, risorse, energie e speranza a favore di ciarlatani che cominciano a dargli le diete, le cure disintossicanti, togliergli il metallo pesante dal corpo, le camere per variche. Perché esiste tutto un mercato che in realtà lucra sulla povera ignoranza delle famiglie che già sono disperate, che pensano di salvare i figli che hanno fatto il vaccino a metalli pesanti. Questo di pesante c'è soltanto 100 kg d'ossa di muscoli e quello che devo fare è insegnargli ogni giorno a vivere la vita. A me mi piace! Ciao Tommy! Evitare l'arretratezza sarebbe una grande cosa, bisognerebbe che smettesse la televisione e chiamare ciarlatani o perlomeno se parli di scienza non chiamare Red Ronnie o la Brigliadori che sarà una grande sommelier della sua pipì, però in realtà il vaccino di autismo non è la persona più adeguata a parlarne. E a 18 anni che cosa succede con un ragazzo autistico? Io ho fatto una grande festa perché a 18 anni è guarito, non è più autistico. Un altro paradosso, in Italia esiste soltanto una neuropsichiatria infantile che si occupa di autistici. Quando diventa 18 anni non è più autistico e quindi adesso sono alla ricerca disperata di qualcuno che dica io mi occupo di autistici, sono un esperto di autistici, sono psichiatra che ha studiato gli autistici. Gli autistici adulti in realtà non dovrebbero esistere nel nostro paese, diventano fantasmi, scompagnano, eppure guarda se ti sembra una persona questa che ha l'area di voler scomparire. Adesso me lo porto via, andiamo una settimana in giro per l'Italia, stiamo girando un film e vado a trovare tante famiglie nei posti più lontani e più abbandonate d'Italia che non hanno possibilità di avere degli strumenti culturali sufficienti per dire no, noi ci fidiamo di quella che è la comunità scientifica, diciamo nostro figlio è autistico perché è nato autistico, non poteva non nascere che è autistico visto che geneticamente è autistico, mi do da fare da oggi per far di lui una persona più possibile autonoma. Questa è l'unica cosa da fare. Ciao, ciao, ciao!